Ciao a tutti e bentornati. Assemblare un PC per alcune persone è una delle esperienze più belle, però come tutte le cose c'è sempre lo suduro di mezzo, soprattutto quando bisogna scegliere i componenti con cui si andrà ad assemblare il PC. La scelta dei componenti è il primo step ed è anche quello più importante per costruire un PC, perché bisogna che siano compatibili fra di loro ed anche bilanciati, perché è inutile abbinare componenti di fascia top con altri di fascia bassissima. Questo può portare solo ad un PC poco performante o addirittura problemi di incompatibilità. Per questo oggi vi mostreremo alcuni esempi di build e configurazioni così da farvi un'idea su come potrebbe essere il vostro prossimo PC. I prezzi e la disponibilità dei componenti che mostreremo nel video potrebbero cambiare in qualsiasi momento. Partiamo subito con PC Entry Level sui 500-580€. Questo budget, anche se non molto alto, vi consenterà di giocare alla maggior parte dei giochi moderni in full HD e dettagli alti. Partendo dal case, quello che abbiamo scelto è il Mars Gaming MC100. Questo case può accomodare scan e bandri ATX, micro ATX e mini ATX. Sul lato espansioni ha 6 slot e può contenere fino a due hard disk e due SSD. Per quanto riguarda il raffreddamento, è inclusa una ventola posteriore da 90 mm. Comunque è possibile installare una ventola o un radiatore aggiuntivo da 120 mm sul lato superiore. Per quanto riguarda il prezzo, di questo case si aggira sui 40 euro. L'alimentatore su cui si può puntare è l'MSI MAG A550BN da 550 Watt. Questo alimentatore è una buona scelta per soluzioni non troppo spinte, tipo quelle Entry Level. La certificazione 80 Plus Bronze. Quindi l'efficienza è tutto sommato buona. Unica pecca sta nel fatto che alcune persone si lamentano che la ventola di raffreddamento agli alti regimi diventa un po' rumorosa. Il prezzo di questo alimentatore normalmente si aggira sui 50-60 euro. Passando al processore, abbiamo votato per una soluzione AMD. Il processore in questione è un Ryzen 5 5500. Questa CPU esacore da 4,2 GHz in Turbo Mode si rivela essere una buona soluzione. Però non è esente da limitazioni, perché supporta solo il PC Express 3.0 e ha una cache L3 non molto grande. Comunque come CPU ha buone prestazioni per svolgere i compiti più comuni, fino al gaming, dove riesce a gestire i moderni giochi in Full HD mantenendo un buon framerate. Guardando l'efficienza energetica, il TDP dichiarato è di 65 Watt, quindi i consumi sono contenuti. Invece per quanto riguarda le temperature, il Ryzen 5 5500, non scalda molto. Per questo motivo, e anche per risparmiare un po' di soldi, si può utilizzare il dissipatore stock fornito con esso. Comunque potete trovare il Ryzen 5 5500 a circa 100 euro. Se volete risparmiare un po' di soldi, potete portare per il meno potente Ryzen 5 4500 a circa 70 euro. Però tenete presente che ha le stesse limitazioni del Ryzen 5 5500. Per quanto riguarda la scheda madre, si può optare per la Gigabyte B550M DS3H. Sicuramente non è la soluzione migliore per un PC di fascia alta, però per assemblare un PC di fascia bassa si rivela essere ottima. Comunque, anche se è una soluzione di fascia bassa, ha tutto il necessario a partire da 4 slot per le RAM DDR4, uno slot PC Expert 4.0x16, uno slot PC Expert 3.0x16, limitato a per 4, e un altro slot PC Expert 3.0x1. Per quanto riguarda l'interfaccia di storage, si trovano due slot per SSD PC Expert SM2 e quattro connettori SATA per SSD e hard disk, mentre gli appassionati di overclock rimarranno un po' delusi perché questa scheda madre ha delle limitate capacità di overclock. Arrivando al prezzo, questa scheda madre generalmente si aggira sui 90-100€. Riguardo la scelta delle RAM, si può portare per il kit da 16GB Lexar Thor DDR4. Nella lista di compatibilità della Gigabyte B550M DS3H non compaiono queste RAM, però abbiamo visto che ci sono persone che le usano con questa scheda madre. Comunque di per sé, le memorie RAM Lexar Thor sono adatte per PC di fascia medio-bassa, sono dotate del perfilo XMP 2.0 e hanno il dissipatore di calore. Il prezzo delle Lexar Thor DDR4 varia da negozio a negozio, comunque normalmente si trovano a 35-50€. Un'alternativa alle Lexar Thor può essere il kit da 16GB delle Kingston Fury Best a circa 45-50€. Passiamo ora alle SSD. Per un PC di fascia entry level si può usare il famoso affidabile Crucial MX500 da 500GB. Questo SSD da 2,5 pollici SATA 3 dotato di DRAM è un'ottima soluzione per avere solide performance a partire dai compiti più comuni fino al gaming, dove di certo non vi deluderà. Il prezzo del Crucial MX500 da 500GB sta sui 40-50€ ed è disponibile nella quasi totalità di negozi fisici e online. Veniamo alla parte più bella, la scelta della scheda grafica. In commercio sono disponibili le AMD Radeon RX 6500 XT e Nvidia GeForce GTX 1650. In generale, queste due GPU costano sui 170-190€ e normalmente permettono di giocare in Full HD a dettagli medio-alti. Però hanno un problema, la memoria video di soli 4GB con gli attuali giochi iniziano ad essere pochi, inoltre le prestazioni della RX 6500 XT sono inferiori se usata con il PC Express 3.0. Altrimenti si può optare per la gloriosa e leggendaria AMD Radeon RX 580 da 8GB. Su Amazon si può trovare nuova sui 110-150€ del brand Paladin, però tenete presente che AMD ha iniziato a limitare il supporto per la RX 580. Comunque, la scelta sta a voi. Se volete un prodotto più recente, scegliete la RX 6500 XT o la GTX 1650. Altrimenti, se volete un prodotto più economico ma meno recente, la RX 580 è ancora una buona scelta per un PC di fascia bassa. In conclusione, facendo un calcolo del prezzo per acquistare tutti i componenti, si arriva a spendere circa 500-580€. Avendo un budget di 1000-1100€, si ha la possibilità di creare un PC in grado di gestire gli attuali giochi in Full HD e 1440p con settaggi grafici alti e anche ultra, ma soprattutto avrete un PC che vi mettiate a mano per aggiornarlo. Comunque, iniziando dal case, si può optare per il Deepcool Matrix 50 AD RGB del tipo Mid Tower. Il formato di schede madri che possono essere installate sono Mini TX, Micro ATX, ATX fino a quelle più grandi del tipo EATX. All'interno si possono installare 4 SSD da 2,5 pollici e 2 hard disk da 3,5 pollici. Inoltre, per tenere a barra le temperature sul lato anteriore, superiore e posteriore, si possono installare ventole e radiatori di varie misure. Comunque, il case in questione ha un prezzo che si aggira sui 90€. Passando all'alimentatore, quello che abbiamo scelto è un Seasonic G12 GC 650W. Questo alimentatore del famoso brand Seasonic garantisce un'ottima affidabilità, qualità costruttiva ed efficienza energetica, visto che ha garantito 80 Plus Gold, ma soprattutto riuscirà a gestire la maggior parte delle configurazioni moderne di fascia media. Il prezzo a cui è possibile acquistarlo si aggira sui 90€. La CPU su cui si può optare è l'Intel Core i5-13400F, dotata di 10 Core da 4,6 GHz in turbo mode. Questa CPU è in grado di far girare i giochi in Full HD e a 1440p, mantenendo un framerate a 120fps. Sul lato consumi non dovrete preoccuparvi molto, visto il TDP di 65W, mentre per video di temperature l'i5-13400F non raggiunge valori particolarmente elevati. Per questo si può usare il dissipatore stock venduto con esso, però tenete presente che è un po' rumoroso, altrimenti potete comprarne una parte tipo il Thermalite PA120SE ARGB. Ma tenete presente che il prezzo finale sarà più alto, quindi oltre il costo di 220€ per l'i5-13400F dovrete sommare anche quello del dissipatore opzionale, se non volete usare quello stock. Una buona scheda madre su cui montare l'i5-13400F è l'Asus Prime B760 Plus D4. Questa scheda madre è un'ottima soluzione per chi desidera assemblare un PC di fascia media sui 1000€, tra le caratteristiche che possiede è il supporto alle CPU Intel di dodicesima e tredicesima generazione, cioè quelle che richiedono il socket LGA1700, mentre le RAM supportate sono del tipo di DR4. Gli slot di espansione disponibili sono uno slot PC Expert 5.0x16, quindi potrete sfruttare al massimo le nuove GPU che richiedono questo standard. Altri slot di espansione disponibili sono uno slot PC Expert 4.0x16 però limitato a per 4 e due slot PC Expert 3.0x1. Per quanto riguarda l'archiviazione è dotata dei tre slot per SSD PC Expert 4.0 M2, di cui quello più vicino alla CPU ha il dissipatore. Mentre per chi desidera connettere i tradizionali SSD o hard disk ci sono quattro porte SATA 3.0. Inoltre dal Bio su Wi-Fi si possono gestire varie funzionalità, a partire dalle cose più comuni tipo ventole, luci, fino al risparmio energetico per avere tutto sotto controllo. Generalmente il prezzo di questa scheda madre varia da 130 a 150 euro in base al negozio. Come per tutti i PC, la RAM è un componente necessario e in commercio ci sono molti modelli di vari brand e dotati di varie frequenze latenze. Comunque per questo PC si può potare per il kit da 32 GB delle Corsair Vengenze Lepix DDR4. Questo kit è composto da due RAM da 16 GB ciascuna, quindi per un totale di 32 GB. La velocità è di 3200 MHz, con una latenza che si assesta a 16. Ci sarebbero modelli con frequenze più alte, ma costano di più. In ogni caso quelle da 3200 MHz vanno bene per un i5-13400F. L'unico inconveniente, le Corsair Vengenze Lepix DDR4 non sono dotate di LED RGB, i patiti delle luci ci rimarranno male. Per portarvi a casa il kit da 32 GB delle Corsair Vengenze Lepix DDR4 dovrete spendere circa 70-90 euro, a seconda dell'offerta. Comunque una buona alternativa è il kit da 32 GB delle Patriot Steel DDR4 da 3200 MHz o 3600 MHz, che di solito hanno un prezzo di 80-90 euro. Per salvare i dati ai giochi, Lexar offre una soluzione conveniente ad un buon prezzo. Si offre buone caratteristiche ad un prezzo conveniente. L'interfaccia di connessione è del tipo PC Express 3.0 x 4 con un protocollo NVMe 1.4. La velocità di lettura è di 3300 Mbps e quella in scrittura è di 2600 Mbps. Mentre per mantenere un prezzo contenuto è sprovvisto della DRAM. Comunque nelle attività quotidiane per giocare si rivela essere un buon SSD ad un prezzo di circa 60 euro. Altrimenti, se desiderate un'alternativa un po' più veloce, è possibile trovare tra i 70-90 euro il cruce P3 Plus. Per concludere, la scheda grafica che abbiamo scelto è la Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT. Questa GPU, dotata di 12 GB di memoria, è adatta per giocare in Full HD, a dettagli alti Ultra e grazie al quantitativo di memoria si riesce a giocare anche a 1440p. Però, se desiderate giocare con il ray tracing attivo, è meglio puntare sulle GPU NVIDIA, nello specifico le GeForce RTX 4060. Una buona GPU di questa serie è la MSI RTX 4060 Ventus 2x da 8 GB. Per quanto riguarda i prezzi, per la Sapphire Pulse RX 6700 XT si aggira intorno ai 330 euro. Stessa cosa per la MSI RTX 4060. Tirando le somme per assemblare questa build si arriverà ad un costo di circa 1000-1100 euro. Sperando che le build appena mostrate vi abbiano scherito un po' le idee sul vostro prossimo PC, vi auguriamo che la vostra build configurazione vi soddisfia pieno. Comunque, se volete suggerire altre build configurazioni, non esitate a scriverlo nei commenti. Più idee ci sono, meglio è, perché potrebbero tornare utili ad altre persone che sono indecise. Inoltre, se vi è piaciuto il video, ricordate di mettere like e iscrivervi al nostro canale YouTube. È tutto gratuito e ci darei tu una mano a farlo crescere. Grazie! Grazie! Grazie!